Giornata storica non solo per Catanzaro ma per l'intera regione, così il presidente della regione Calabria Mario Oliverio in occasione dell'inaugurazione dei lavori per il nuovo collegamento metropolitano ferroviario della città capoluogo. La consegna dei lavori è stata preceduta in prefettura dalla sottoscrizione del protocollo di legalità da parte del prefetto di Catanzaro Luisa Latella, del presidente Oliverio, da Egidio Altomare, amministratore delegato dell'impresa Viannini Lavori S.P.A., società capogruppo che realizzerà l'opera insieme alla COGEFOR e alla Ares Costruzioni, uno strumento necessario ai fini del contrasto e della prevenzione dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. La cerimonia per l'avvio dei lavori si è svolta poi nei pressi della cittadella regionale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, proprio dove sorgerà la fermata cittadella regionale. La nuova metropolitana, che dovrebbe essere ultimata nel 2019, collegherà la nuova stazione di Catanzaro, in località Germaneto, con l'attuale stazione di Catanzaro Sala e prevede inoltre l'adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria già esistente nella Valle della Fiumarella, tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido. L'importo dei lavori è di 103 milioni, mentre all'interno del cantiere lavoreranno circa 300 addetti. In poco meno di un quarto d'ora, dunque, sarà possibile così spostarsi dal centro storico alla zona sud della città. Rossella Galati per la CNews24.